Continua a parlare Andrea Mantella, considerato uno dei capi emergenti dell'articolazione vibonese di Andrangheta dei Pardea Aranisi e scopre scenari inquietanti che scuotono ambienti insospettabili. Lo sfondo in questo caso riguarda una serie di falsi certificati medici, false perise psichiatriche e depistaggi, con l'unico obiettivo di far uscire di galera proprio Andrea Mantella, oggi divenuto collaboratore di giustizia. Grazie a questa fitta rete di medici, psichiatri, evocati e consulenti tecnici, l'Andrangheta era riuscita a far diventare una clinica sanitaria convenzionata, dove venivano ricoverati i capi malati ma in realtà sanissimi, una sorta di quartiere generale che ospitava veri e propri summit dagli Andrangheta, diventando praticamente una base operativa dove veniva deciso lo sviluppo della locale di Andrangheta. Il nucleo investigativo del comando provinciale di Vibo Valencia, coaudivato in fase esecutiva dai nuclei investigativi di Cosenza, Catanzaro e Le Mezzaterme, oltre alle compagnie carabinieri di Bari San Paolo e Locri, ha proceduto alla notifica di una serie di avvisi di conclusione in indagini preliminari nei confronti di 16 persone, tra avvocati, medici e professionisti nominati consulenti tecnici, ritenuti responsabili a vario titolo di corruzione in atti giudiziari, falsa perizia, false comunicazioni all'autorità giudiziaria e altro, reati e aggravati dal metodo mafioso. Numerosi gli episodi finiti sotto la lente della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri, un vero e proprio patto che sarebbe stato stipulato per favorire del pericoloso esponente dell'andrangheta vibonese. L'attuale collaboratore di giustizia avrebbe persino simulato nel formario 2006 una tentativa di suicidio, attraverso il quale una serie di professionisti, contraddicendo il medico che per primo l'aveva soccorso, avrebbero attestato falsamente una sindrome suicidaria tale da individuare una condizione di incompatibilità tra quanto di patologico presentato dal soggetto con il regime di detenzione in carcere. Le indagini hanno accertato un vero e proprio meccanismo illecito che vede coinvolti i medici avvocati, i quali attraverso le proprie condotte si sono adoperati, in molti casi riuscendoci, a far ottenere benefici carcerari ai propri assistiti, esponenti di spicco dell'andrangheta, trasgredendo le leggi dello Stato e venendo meno alle regole deontologiche che contraddistinguono le professioni mediche e legali, con l'aggravante di aver agito con la finalità di agevolare l'andrina dei pardeanarranisi attraverso la scarcerazione del suo vertice apicale, mantella appunto, già in precedenza esponente dell'andrina non biancobarba, divenuto in quel periodo promotore ed organizzatore del gruppo scissionista operante nella città di Vibo Valencia. Ma adesso, proprio grazie alla collaborazione dell'elemento di vertice della articolazione dell'andrangheta vibonese, i carabinieri sono riusciti a ricostruire la rete di professionisti che si faceva beffa della giustizia.